Allora andiamo al centrocampo Allora andiamo al centrocampo adesso potete scegliere anche il campo scegliete già il campo dai, soddisfere e pare però rimanete schierati si prende il mio occhio ma poverzi non sei scegliete quello del rosso è così via perché sei d'accordo? allora questa è la palla allora di sfierate perché faccio così no 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 ok ok Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.